I topini senza casa C'era una volta una bambina che quando tornò a casa trovò tutto in disordine. Che pasticcio, mamma mia! Nella casa della bambina ci sono 20 topolini che cercano una casa. Bambina, noi non abbiamo una casa! La bambina vuole tenere i topolini, ma la mamma non vuole. Non se ne parla! La bambina promette, me ne occuperò io! Ok, va bene! La bambina fa una casa con le cose vecchie. Viva una casa! Finalmente abbiamo una casa! Viva abbiamo una casa! E vincerò tutti felici alle voltecchi! Domerzate! Ok, va bene! Viva la casa! E vi d括 di relazita! Grazie a tutti.